Arrivano le prime drammatiche conseguenze della difficile situazione che sta coinvolgendo gli stabilimenti piacentini dell'IKEA. La multinazionale svedese ha infatti deciso di dirottare altrove un consistente quantitativo di merci, ragion per cui le cooperative hanno annunciato che i lavoratori impiegati saranno ridotti di 107 unità. E all'interno dei magazzini è scoppiata la protesta di coloro che si sentono vittime della strategia dei Cobas e dei Facchini in protesta, che anche ieri mattina hanno bloccato gli ingressi. In 350 hanno sottoscritto una lettera in cui chiedono l'intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Abbiamo comunicato appunto quello che IKEA ieri ci ha trasmesso in termini di volume da qui in avanti, che comportano come conseguenza una riduzione di 107 persone in organico. Ovviamente i lavoratori non erano assolutamente contenti e sono oggettivamente fortemente preoccupati sul loro futuro se questo tipo di situazione permane. Lei è uno degli operai a cui è stato comunicato il fatto che a causa della riduzione dei volumi non sarà chiamato in servizio nei prossimi giorni. Purtroppo sì, questo grazie a quei famigerati colleghi che continuano a farci operi e non sanno neanche loro secondo me per quale motivo. Spero soltanto che la cosa si riesca a risolvere il più presto possibile e che i signori capiscono che, a parte il fatto che è una guerra persa, che stanno sbagliando di brutto. Sono qui a difendere sia Cooperativa che IKEA perché ci sentiamo lesi, stiamo qua a difendere il nostro diritto a lavorare per 14 persone che sono state licenziate non ingiustamente. Loro non hanno mai detto lasciamo a casa le persone, piuttosto si lavoravano alle 6 ore invece delle 8 per far lavorare tutti. Il clima negli stabilimenti è molto teso, sono in tanti a non volere il rientro dei colleghi che in questi giorni hanno partecipato ai picchetti. Noi a questo punto abbiamo anche paura di queste persone qua, sappiamo che se li fanno rientrare magari cominceranno a destabilizzare l'ambiente, destabilizzeranno l'ambiente qua dentro, ci verranno contro, magari ci faranno i dispetti, non ci faranno lavorare in pace. A questo punto noi non li vogliamo queste persone qua. Ma come è stato detto che non è che vengono licenziate, lavoreranno da un'altra parte, il diritto al lavoro ce l'hanno. Perché loro se scadiscono vuole tornare qua, vuol dire che qui stavano bene allora. Ikea ha annunciato che la riduzione dei carichi è pronta a rientrare non appena cesseranno i blocchi, ma CGL e Cisleville inizieranno già da domani il confronto per chiedere la cassa integrazione per i 107 che resteranno a casa. Oggi hanno incontrato l'assessore provinciale Andrea Paparo per pianificare la strategia. La nostra opera di mediazione continua nella speranza che Ikea possa ritornare sui passi, ma che anche altri possano ritornare sui loro passi. Cioè io lo continuo a dire, se c'è chi ritiene che siano stati lesi i propri diritti, ci sono motivi di manifestare, poter stare o ricorrere a qualcuno, si faccia, ma impedire ad altri di lavorare, credo che sia il modo migliore per rompere tutto, per ledere il diritto di altre persone e per far scappare le aziende dal nostro territorio. Noi porteremo avanti le nostre idee, abbiamo anche delle ipotesi da porre oggi al tavolo, quale è una istituzione di una commissione paritetica tra lavoratori, organizzazioni sindacali, cooperative, per gestire le varie criticità che si andranno a verificare. Noi non siamo quelli che andiamo a far baricato, non facciamo entrare la gente a lavorare, siamo quelli che col dialogo, con la mediazione cerchiamo di risolvere i problemi. Grazie a tutti.